Ed ecco qua, siamo diventati Rod il gelataio, siamo noi il gelataio Rod, siamo Rod il gelataio sul tetto della fabbrica Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi torniamo nella serie di Ice Cream perché oggi proveremo a fare un esperimento molto bello, molto divertente Oggi diventeremo Rod il gelataio all'interno del quinto capitolo e per farlo utilizzeremo la mod di Cyber Hacker Che è una mod disponibile per tutti Partiamo subito, ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like, lasciate più like possibili per aiutarmi a supportare la serie E se il like che lascerete sarà pari, il personaggio associato a voi sarà Rod il gelataio Se invece il like sarà dispari, il personaggio associato a voi sarà il mini Rod Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati E se vi piacciono questi tipi di video mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Perché qua su questo canale ogni giorno porto sempre due nuovi video, doppio divertimento Ma adesso partiamo subito, cominciamo Come vi ho detto poco fa utilizzeremo la mod di Cyber Hacker disponibile per tutti Se volete un video tutorial su come scaricarla e installarla mi raccomando lasciate mille like sotto questo video E vi farò il video tutorial Partiamo subito, cominciamo E qua adesso come sempre vediamo il nostro caro gelataio borbottone Sempre che borbotta, sempre qua che parla, che fa le cose Perché si è fatto sfuggire Chubby Boy Ma scusa Rod, prenditela con te stesso, non è colpa mia Cioè sì, in realtà è colpa mia che sono scappati perché sono io che li ho fatti fuggire Però anche lui dovrebbe darsi una svegliata, dovrebbe darsi una mossa Sempre che se li fa fuggire Tra l'altro vi chiedo soltanto scusa per la voce che sto avendo ultimamente nei video E che ho un leggero mal di gola qua, che non mi fa parlare bene E quindi purtroppo non mi esce la voce quella che ho di solito Ho la voce buggata Ma che roba, la voce è buggata Spero di guarire così poi mi si fixa la gola e riesco a fare la voce come si deve Ma cos'è? Va bene Ed eccoci qua, siamo all'interno della sala macchina Per poter diventare Rod il gelataio Sfrutteremo una funzione di questo mod che si chiama modalità telecamera Che ci permette di spostare appunto la nostra telecamera nella visuale di Rod Uno potrebbe dire sì, ok, tu diventi Rod, non lo controlli Ma sempre tramite la mod noi possiamo decidere dove teletrasportarlo Dove farlo andare Possiamo semplicemente guidarlo in modo indiretto utilizzando la mod Quindi sì, diventeremo Rod il gelataio e lo controlleremo all'interno di questa partita Ma dai mini Rod, ma dai neanche il tempo di cominciare che già me lo trovo di là Sentite, facciamo una cosa, va Io direi di mettere subito il God Mod, no Perché non si sa mai, non si sa mai che qua mi viene a prendere Rod Allora sposto pure qua il menu, se no veramente A finire che vado sempre a toccare il menu delle impostazioni di gioco Via 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 Allora, come vi dicevo, noi possiamo spostare Rod, teletrasportarlo dove vogliamo Ma possiamo anche scegliere dei posti precisi, no Ad esempio io vado di qua, un posto a caso, mi metto qua In questo angolino, vado su teleport menu E posso scegliere qua un checkpoint Che lo posso chiamare come voglio, lo chiamo 1 Crea E dopodiché io quando vado qua posso scegliere questo checkpoint 1 E teletrasportarmi Posso sia teletrasportare me, ma anche Rod il gelataio E questo lo useremo quando diventeremo noi Rod E lo teletrasportiamo di qua Adesso vediamo se troviamo un altro posto dove andare Dove segnare come checkpoint Sali, 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 veloce, veloce, veloce Possiamo metterne anche uno E qua Rod E già di qua Rodino il gelataio Vabbè, mettiamo qua Seleziona, creiamo il checkpoint 2 Così dovremmo averlo qua, sì Perfetto Ciao Rod No, mi ha visto, mi ha visto Via, via, via Che roba No, no, no Scappa, scappa, scappa Veloce, veloce, veloce Mettiamoci di qua, mettiamoci di qua No, no, allora Mettiamo qua adesso checkpoint 3 Lo creiamo Vediamo se me l'ha già creato Sì Su, su, andiamo, andiamo, andiamo Velocemente, veloce, veloce, veloce Non voglio farmi prendere da Rod il gelataio Per nessuna ragione al mondo Sì, però devo tirar la leva Volevo tirar la leva della discarica Ma se Rod è qua È vero che sono con il gold mod Quindi tecnicamente potrei muovermi tranquillamente Però Vorrei evitare di farmi prendere lo stesso da Rod Andiamo di qua Di corsa Andiamo ad attirare la leva della discarica E vabbè però E che roba E che roba Sti mini Rod Pure quando gioco con il gold mod Mi vengono a dar fastidio Pure con il gold mod Via, via, via Andiamoci subito via da questo posto E facciamo il cambio di personaggio Perché adesso voglio segnare pure dei checkpoint Utilizzando J per questo mini Rod E che roba Non piazzarti davanti Non metterti davanti mini Rod E che roba Su Che già non ho la voce per poter sgridare mini Rod Cioè E poi mi fanno pure far ste cose Allora Su, mini Rod Fate i bravi Che non vi posso sgridare in questo video Non posso sgridare mini Rod Con sta voce Va bene Cambio di personaggio Diventiamo J Ma questa volta Andremo a piazzare altri checkpoint All'interno di questa zona Quindi qua potremmo mettere Non lo so Un checkpoint nella zona degli uffici Così a caso Tanto qua ne abbiamo di posti da mettere Ne abbiamo veramente tanti Allora Siamo arrivati al checkpoint numero 3 Quindi direi di mettere qua il checkpoint 4 Creiamolo Perfetto Adesso andiamo qua dentro Apri la porticina Vediamo Vediamo niente Vediamo niente Ma sempre mini Rod Si trovano qua Sempre mini Rod Ma non è possibile Non è possibile Su vattene via mini Rod Vattene via E che roba E che roba E che roba Piazziamo qua un altro checkpoint Lo chiamiamo 5 Creiamolo Perfetto Su su Dai che ce stiamo facendo Dai che ce stiamo facendo Che poi tra l'altro Io posso pure decidere Non solo i checkpoint Anche le direzioni Adesso torniamo qua E adesso torniamo qua Mettiamo sempre il noclip Velocemente Ce ne andiamo questa volta All'interno della discarica Quindi facciamo andare Rod qua Dentro la discarica Teleport menu Siamo arrivati al 6 Quindi creiamo Checkpoint 7 Crea Perfetto Adesso Saliamo di qua Andiamo nell'altro lato Della discarica E creiamo l'ultimo checkpoint Così possiamo divertirci E spostare Rod Dove vogliamo E questa volta diventeremo Noi Rod Decidiamo noi Dove farlo andare Dove spostarlo Come muoverlo Quindi perfetto Siamo qui dentro All'interno di questa discarica Creiamo qua Checkpoint numero 8 L'ultimo che creiamo Creiamolo Perfetto E adesso è il momento È il momento Di diventare Rod Il gelataio Andiamo su Non lo so No devo andare qua Su camera menu No prima di andare su Monster menu Selezioniamo Rod Dopodiché Creiamo la telecamera Place camera Perfetto Poi andiamo indietro E andiamo su camera menu E mettiamo la telecamera Su Rod Guardate qua Siamo diventati Rod il gelataio E stavolta però Io direi anche di Spostare la videocamera Così possiamo vederlo meglio Perfetto Roddino Non andare a riparare furgoni Mi raccomando Niente furgoni Quella rotazione Invece sta andando a riparare il furgone E sempre che va a riparare furgoni Sto Roddino Sempre qua che ripara Ma che roba Ma che roba Ma per una volta Smetti di riparare furgoni Smettila di riparare il furgone So io come farlo smettere So io Andiamo qua su camera menu Rimettiamo il player Perfetto Facciamo far suono a questo mini Rodd Eccolo qua il mini Rodd che fa rumore Ed eccolo qua Adesso andiamo qua su camera menu Diventiamo Rodd Ed ecco qua Siamo diventati Rodd il gelataio Siamo noi il gelataio Rodd Che roba Siamo subito fuori Andiamo a raggiungere Jay Dall'altra parte Siamo già arrivati dentro la discarica Ma che roba Ed eccoci qua Guardate Siamo Rodd il gelataio Bellissima sta cosa Spettacolare Spettacolare Ma che sta succedendo Dove andiamo Dove andiamo Eccoci qua No Su Che sta succedendo Posso comunque decidere Dove spostare Rodd Quindi ad esempio non lo so Andiamo su teleport menu Selezioniamo Rodd Possiamo scegliere se farlo andare sopra Tocchiamo app Teletrasporta No non me lo fa andare Forward Teletrasportalo Perfetto Guardate qua come si muove Eccolo qua Lo abbiamo portato sul tetto Guardate Siamo Rodd il gelataio Sul tetto della fabbrica Ma che roba Ma che roba Bellissimo Ora voglio vedere però come torna indietro Sono veramente curioso di vedere come torna Rodd il gelataio Indietro Ma che roba Bellissimo Rodd bloccato sul tetto della fabbrica E bloccato sul tetto della fabbrica Ma che roba Bellissimo proprio Bellissimo Adesso facciamo un'ondare Non lo so Teletrasportiamo Rodd da Rodd No niente Questa funzione non è pronta Come non è pronta Andiamo nel checkpoint allora Teletrasportiamolo qua Eccolo qua Abbiamo spostato Rodd Nel checkpoint numero uno Solo che non si muove Cioè sta così fermo Ma oh Rodd Ma che roba Facciamo andare sopra allora Sopra Teletrasportiamolo così Mi si è buggato Rodd Si è buggato Rodd Ma cosa Non ci posso credere E mettiamolo sotto No sotto non me lo fa andare Sopra Sopra Perfetto Si era sbuggato E ora si è ribuggato Ma cosa sta succedendo qua Cosa sta succedendo Portiamolo qua dal player Perfetto Adesso si sblocca Ok si è sbuggato Abbiamo sbuggato Rodd E stavolta riportiamolo In un altro checkpoint Portiamolo al checkpoint numero due Teletrasportalo di qua Perfetto Guardate qua Praticamente siamo noi che decidiamo Dove spostare Rodd E come se lo stessimo comandando noi E come se noi stessimo decidendo Dove spostarlo Come muoverlo Ma che roba Questa è una cosa che potete fare tutti quanti voi Con la modi di cyber hacker Tutti quanti voi potete diventare Rodd E decidere dove farlo andare Facciamolo andare tipo non lo so Sotto sotto Facciamolo scendere Andiamo qua Teletrasportalo sotto Ok Cosa Lo abbiamo teletrasportato fuori dalla mappa Cioè no intermedio A metà fra fuori e dentro Ma dove sta camminando Ma dove stiamo camminando con Rodd il gelataio Ma dove siamo Ma che posto è No no seriamente Ma che posto è questo Facciamolo scendere ancora Teletrasportalo sotto Ma cosa Vabbè sopra 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 Vediamo fino a quando riesce a salire No più di così non ci va Più di così non ci va Ma dai Allora portiamolo qua di nuovo dal player In modo da sbaggarlo Niente non si sbagga Neanche se lo porto dal player È rimasto Buggato Abbiamo buggato Rodd il gelataio Ok Se lo metto qua Teletrasportalo al checkpoint Facciamo una cosa va Direi di provare a sbaggarlo in questo modo Andiamo qua su back to menu Andiamo su camera menu Diventiamo il player Torniamo ad essere lui Guardatelo qui C'è Rodd buggato E ora si è sbaggato Lo abbiamo sbaggato di nuovo Ecco come far sbaggare Rodd? Quando si bugga Basta andarci davanti E si sbagga subito Torniamo qua su camera menu Rimettiamo Rodd Ed eccolo qua Siamo tornati ad essere Rodd Siamo tornati ad essere Rodd il gelataio Bellissimo Bellissimo E adesso direi di fare un'altra cosa Teletrasportiamolo negli altri checkpoint Che abbiamo messo Che sono veramente curioso Di vederlo Andiamo qua su teleport menu Lo spostiamo Seleziona Checkpoint Mettiamo il checkpoint Non lo so Mettiamo il 7 questa volta Ah il checkpoint 7 Direttamente all'altro lato della discarica Ma cosa? No no Rodd Dove stai andando? Dove va Rodd? Dove va? Dove sta andando? Mettiamolo al checkpoint 8 Quale sarà il checkpoint 8? Ah Sempre la discarica eh E sempre la discarica Ma che roba Sempre qua lo portiamo Allora Checkpoint 6 Lo abbiamo portato dentro la sala gabbie Rodd il gelatoio all'interno della sala gabbie E preparati Roddino Perché molto presto Voglio rimetterti all'interno di una di quelle gabbie Voglio riportarti là dentro Adesso però voglio provare a teletrasportare Il player dove c'è Rodd Quindi andiamo qua su player Teletrasportalo qua Come? La funzione non è ancora pronta Allora facciamo in questo modo Teletrasport player da Rodd Ah forse Forse ho capito perché non funziona Perché devo prima mettere l'altra telecamera Andiamo su camera menu Che si trova di qua Mettiamo il player Perfetto Adesso ci teletrasportiamo Ma cosa non posso teletrasportarmi da Rodd? Non posso andare da Rodd? Ma come? Ma com'è possibile sta cosa? Com'è possibile? E teletrasportiamo allora Rodd dal player Ed eccolo qua E c'è comparso direttamente davanti in faccia C'è comparso il nostro caro Roddino Ciao Rodd È stato un piacere È stato un piacere Via 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 Adesso direi di fare una cosa Voglio provare ad entrare qua dentro All'interno del trasporto spazzatura Ce ne andiamo dall'altro lato E adesso mettiamo qua di nuovo la telecamera E voglio vedere il percorso che fa Rodd Quindi metti qua Metti qua Rodd camera E vediamo adesso dove se ne va Il nostro caro gelataio Vai Roddino caro Seguiamo il suo percorso Spiamolo di nascosto Anche se in realtà su spiare Rodd di nascosto Vorrei fare un video più avanti Tra qualche giorno Giusto per vedere un po' come si muove all'interno della mappa Ma cosa? Mi si è buggato Rodd davanti alla porta Abbiamo trovato un modo per buggare Rodd No no perché seriamente Adesso qua lui si è buggato Non perché io ho fatto qualcosa Cioè io me ne sono andato via Normalmente Ma lui si è buggato Non riesce ad aprire la porta Ma che roba Ma che roba Va bene dai Allora direi di fare una cosa Direi di finire qua il video Fatemi sapere cosa Ne pensate Fatemi sapere Se voi avete già provato la mod di Cyber Hacker Spero che questo video si è piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalicciate che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva E ci vediamo al prossimo video Come sempre vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti E buon panino totte Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti